musica 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 ah finalmente ho finito di costruire la mia zattera ah ah è stato un lungo lavoro aiuto eh che cazzo è oh aiuto eh chi 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 sei tu no cosi tu no allora ho una torcia ti do fuoco quindi attenzione aiuto aiuto ah ti do una mano a uccidere questo signore no mori no no ah ti do una mano a uccidere questo signore e poi te ne vai sulla tua zattera che cos'è quella zattera? è casa mia casa tua? si si niente il signore come non ci credi l'ho appena finito di costruire tu non ci credi? no non ci credo ah dici? si certo ah madonna santa ah vieni qua sopra così da qua vedi alto che brutta è bella a tutti ragazzi benvenuti ok allora dopo la pausa miei cari signori siamo tornati in questo video con Emanuele che sta ballando la disco dance taga taga e siamo qui per la prima volta sul raft online noi giochiamo già da quanto giochiamo Emanuele? anni anni lunghi anni anni di esperienza pensate che poi ci disinstallammo raft e ci avevamo questa qua quindi il natale scorso questo ce l'abbiamo nel natale scorso cioè quindi pensate voi quanto tempo è passato tanto tempo tanto tempo tanto tanto non si può descrivere e quindi oggi siamo su raft online che stiamo giocando insieme magari se vi scaricate il raft un giorno giocheremo pure insieme un giorno magari si dai ridete ridete applaudite non lo so è solo che sono non lo so vi diremo vi diremo poi l'annuncio un giorno no si no si l'annuncio e vi diremo l'ora esatta per cui dovreste arrivare capito se non arrivate sono cazzi vostri quindi dovremmo andare con voi però se non arrivate non è colpa nostra Pasquale no 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 ah si si raga prima di tutto trattate bene il nostro squalo che si chiama Pasquale eh eh lo so lui è un non è molto non è una persona affidabile cioè proprio non è una persona affidabile però eh lo so non è affidabile noi ci vediamo così noi ci vediamo così noi ci vediamo così noi ci vediamo così no perché siamo amici da quando abbiamo installato raft e ci ha rotto le palle da quando abbiamo installato raft quindi non ci potremmo la prendo io la prendo io la prendo io che fa? sii no non la prendo io la prendo io dai eh aia ah godo 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 eh da evidenziare in questo gioco non ci si può picciare a vicenda eh se no l'avrei già ucciso me eh ma io lo faccio lo stesso anche per finta perchè Raffaele e Raffaele è la stessa persona ma che cazzo vedi è una torcia questa è la nostra zattera c'è una torcia Pasquale vieni che ti do fuoco ah si se l'avete visto sto bug qua non so chi di voi gioca però passi attraverso le cose qua basta questa è cosa senza senso qui stiamo programmando per fare il secondo piano il secondo piano che useremo perchè cosa non serve? non lo so lo dovremmo arredare per l'acqua beh poi vedremo ma se lo faccio qua eh lo so però poi dobbiamo fare un'altra zona tutta farm capito raga faremo una zona tutta farm perchè qua stiamo organizzati veramente veramente male ah 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 lasciami prendere questa scatolina allora che palle non sto allora vediamo un po' aiuto aiuto ma il quale no 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 non ti fa bene non ti fa bene cominciamo così mamma cominciamo bene allora io ho creato questo ponte perchè non l'ho mai creato e volevo vedere che così ora che cacchio è questa roba? si è un ponte è un ponte wow la scoperta della wow che cacchio è? non mi fido molto questo ponte sinceramente stiamo facendo una cosina non so e ma allora dimmi una cosa allora siccome in questa zona noi prendiamo tantissime cose no? mh che dici? la zona farm la facciamo di qua? eeeh non lo so la facciamo di qua perchè decido io ok decide sempre lui rompo pure questo che mi ha dato un botto di cosa il ponte no non mi buttare giù fammi salire va e vediamo un po' Emanuele non voglio farlo subito del materiale principale il materiale principale ma quell'altro che si chiama quello di fianco a a wooden floor quello di fianco con quello dobbiamo fare capito? ok perchè è molto resistente ok il primo pezzo è andato quindi adesso raga aspettate qualche seconda ok raga eccoci eeeh di nuovo abbiamo deciso un po' ci siamo messi d'accordo mi metto a dormire perchè sennò mi devo morire vediamo allora dormi ecco se vorrei non cantare non cantare che ci danno il cuore allora vi dicevo se superiamo i 10 like per un prossimo video noi vedete quelli ma spero ma non si inficcono lanciano il libro eeeh avete presente quell'isola la che vi sta puntando quelle cosini noi andremo là sopra dove sono andato noi? mh esatto Emanuele io la conosco lui c'ha un botto di materiali quindi Emanuele qui fai in altri due che poi qua faremo tanto le mura belle con le finestre e basta eeeh il botto di materiali ti ricordo che significa avere tante foglie eh infatti io vado a uccidere Pasquale 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 perché stai fermo vabbè comunque ho subito uscirò domani cioè martedì sì di martedì questo video uscirò e poi mercoledì uscirò il video che non vi spoiler non mi sento dico a me dico a me dico a me dico a te che vuole volere a tutti ma perché non ha senso cioè non ha senso non si è aggrappata a nulla dove sei si prendermi tutto? eh? dove sei? sì stavo prendendo cose devo mangiare devo devo bere tutto ah no 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 allora raga noi pensavamo che per far muovere la zattera dovevamo usare questi cose invece la zattera rimane ferita comunque ti fanno una sfida sì fai di se arriviamo a più di 20 like più Raffaele va notando su quelli sono in fondo facciamo una cosa più di 20 like io salgo sopra quel monte che vi sto facendo vedere con la freccetta costruisco con i materiali e salgo la sotto però più di 20 like sono un amascolo qui Emanuele ha fatto le sue cagatine che sta cosa quanta è allora spiego io questo si chiama Bruno per chi non lo sapesse ovviamente e questo è una serie dove si può ballare c'è raga guarda che balletti aspetta il mio preferito guardate il mio preferito di più grande ma c'è un'altra ma c'è un'altra ma c'è un'altra ma c'è un'altra si distrago Pasquale e e tu prendi lo Jack vabbè 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 non le posso prendere pure se non le ho visto quindi raga scusate ma i commenti sono disattivati però quelli di perché per il fatto del minore e quelle cose però se erano attivati se erano attivati potevate diciamo potevate dire come funzionava e e e poi un'altra cosa che vi devo dire e e se in caso scrivetemi su instagram che adesso vi è comparso sicuramente l'annuncio di cioè Pasquale che ti sta e e tu rimani fermo la cosa bella ok è morta ma come è Monica senti meglio abbiamo usato la carne allora vi faccio vedere la zatta allora qui questa zona l'avete visto com'è va bene lì poi avete visto qui avete visto Emanuele si sta si sta uccidendo per ucciderlo a scuola qui c'è quest'altra zona dove abbiamo il barbecue che poi ovviamente toglieremo però fino a quando non abbiamo finito di sistemare la zona farm non sposteremo niente anche perché o rompi o rompi qua nel senso o le rompi le cose oppure non le puoi spostare no è la vita reale se io sto le sta staliana qua la voglio mettere qua no quella la devo per forza rompere e poi devo costruire l'altra che niente cazzo devo mangiare le patate cru oh attenzione alle patate caso ma si vanno a bruciare che le ho messe a cucinare che sa come si è fatto io eh sì le hai già messe? si no ancora mi sono per me che non si vanno volare comunque devo piazzare nel pavimento qua si continuo a piazzare i pavimenti dove mai no 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 qua ah si devi fare poi lo faremo poi lo faremo direttamente con quello del parquet nooo raga 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 non nel prossimo video di rat ma nel terzo video andremo in un server totalmente a caso dei server totalmente a caso ma totalmente a caso nel senso totalmente a caso che devo fare Manuela? devo rompere queste cose cosa? devo rompere un pezzo di che? sotto qua per il pavimento ah si metti il parquet e tu ce l'hai? eh no sto facendo qua il col vabbè ma no ma non farlo qua poi lo facciamo direttamente col parquet capito? ma come si fa? cosa? a farlo non si può perchè? non lo può mettere e e e perchè perchè questo Emanue guarda che questo qua è quello per per te cioè questo qua lo devi mettere per forza là dove? perchè vedi sotto che stanno i fonzi quindi questi sono quelli pazzi per e no ala ti dico di fare un'altra ma perchè mi sto baggando lo visuale? un'altra striscia qui di tre sempre e poi direi che abbiamo finito per la zona fa bene intanto per concludere il video bagno ehm ehm nei miei video vabbè possiamo finire con quel video che ne dici. sì 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 beh raga spero che il video vi sp- spero quella esce di arricciando Borghese spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bellissimo piacere e iscrivetevi al canale E noi ci vediamo in un prossimo Aspetta Emanue vieni Non fare soli Aspetta saluta Saluta i miei iscritti Vabbè comunque Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate tantissimo E ci vediamo in un prossimo video Bella